Di solito quando Olga gli fa un complimento di benza rossa e inizia a balbettare, prima invece non l'ha fatto. E' sempre il zio che è detto di riparare la sua radio, è sempre il zio che è detto di riparare la sua radio. And I just can't wait till the day when you knock on the door. And every time I go for the mailbox, I can hold myself down. And I just can't wait till the night when you knock on the door. And I just can't wait till the night when you knock on the door. And I just can't wait till the night when you knock on the door. And I just can't wait till the night when you knock on the door. And I just can't wait till the night when you knock on the door. Grazie a tutti